Salve pinguini! In questo video short vi volevo dire della mia teoria su Elon Musk che ho maturato negli ultimi giorni. Ricapitoliamo quali sono le aziende più grandi di Elon Musk. Tesla, SpaceX, che include anche Starlink e adesso c'è Twitter. Ora, cosa hanno in comune queste realtà, a parte il fatto che sono comandate da Elon Musk? La mia teoria è la seguente. Lui ha comprato Twitter, così quando lui andrà a colonizzare Marte, lui potrà tweetare tutto il suo viaggio, perché durerà diversi mesi per andare su Marte, e quando arriva, tweeterà dicendo, sono arrivato su Marte. Come potrà farlo? Beh, a Starlink. Nessuno gli vede di lasciare per strada dei ripetitori, così lui può tweetare e connettersi su internet da Marte. Così da poter essere il primo uomo che ha tweetato dallo spazio. E che cosa c'entra Tesla? Questo uomo dovrà andare in giro su Marte. L'ho raccontato l'altro giorno ai miei amici e mi ha detto che sono folle. Lo sono? Beh, fatemelo sapere nei commenti. Ciao!